Buonasera Blenderisti, la scorsa volta abbiamo visto come con pochi nodi siamo riusciti a non fare riflettere la luce su uno specchio, su un materiale gloss in pratica. Però, praticamente, questo tipo di nodi, oltre che nascondere la luce sul piano riflettente, nasconde anche la luminosità della luce. Bene, per evitare questo tipo di resa, adesso con altri nodi diciamo, praticamente, alla luce di nascondersi sul piano a specchio, ma comunque di riflettere la propria luminosità sull'oggetto che è specchiato. Per fare questo è semplice, basta annodare il diffuse def su un emiction, aggiungere un mix shader tra il mix shader e il light output, collegare l'emiction che abbiamo precedentemente collegato sul diffuse def all'altro nodo shader. Adesso, praticamente, abbiamo la luce che non si specchia sul piano, ma comunque trasmette la propria luminosità sull'oggetto, sia sull'oggetto fisico, praticamente, quello che è reale, sia sull'oggetto che è specchiato. Per questo è tutto, grazie, ciao!